Ciao bimbi! Oggi vi farò vedere una magia bellissima. Trasformerò dei chicchi di mais in dei buonissimi pop corn. Volete sapere cosa ci serve? Allora... Questi sono i chicchi di mais, dell'olio di semi di girasola, un pizzico di sale e una padella. Allora, io ho preso una con il coperchio trasparente così possiamo vedere la magia mentre avviene. Adesso vi faccio vedere cosa dobbiamo fare. Allora, mettiamo un filo d'olio, prendiamo i nostri piccoli semini e li distribuiamo nella padella con l'olio. Finché non li abbiamo messi tutti. Adesso accendiamo il fuoco, mettiamo il coperchio e aspettiamo. Allora, bimbi, guardate che cosa sta succedendo! Un'esplosione di pop corn! Guardate come si stanno trasformando! Sentite anche il rumore che è bello! Guardate! Si sta riempendo la mia padella piena di buonissimi pop corn! Adesso però dobbiamo aspettare che scoppino tutti così poi mettiamo un pizzico di sale e iniziamo a mangiarli tutti. Aiuto! Eccoli qua, bimbi! Guardate! Quei chicchi di mais si sono trasformati in dei buonissimi pop corn! Adesso prendiamo una bella coppa, li mettiamo dentro, un pizzico di sale e il gnam gnam! Eccoli qua, bimbi! Sono pronti! C'è un profumino buonissimo! Adesso prendiamo un po' di sale e li mischiamo un po' sciacchiamo e adesso buon appetito a tutti! Ciao ciao! Fatene anche voi, mi raccomando! e poi Ciao! Grazie.